I macchinari distanziati e le luci spente, la perfetta metafora di chi ha lavorato per rispettare le norme anti-covid e si ritrova chiuso ancora una volta senza preavviso e spiegazioni. Sono tante le strutture a patire in questione lockdown dello sport. È il caso del campus acque di Pavia, polo all'avanguardia del capoluogo. È inutile che nasconda la mia amarezza per quanto sta succedendo, la chiusura di piscine e palestra per noi è un problema enorme. Io capisco l'emergenza sanitaria, per carità, è la prima cosa, però per noi è un grosso problema. Qua al campus acque fortunatamente abbiamo altre attività che possono andare avanti, tipo bar, ristorante, però la parte sportiva per noi è fondamentale. Investimenti anche importanti, io gli dico solo che noi abbiamo investito per mettere a norma la struttura circa 60.000 euro. Abbiamo avuto un riconoscimento da parte del governo come credito d'imposte di circa 4.000 euro, cioè veramente una goccia nel mare. A nulla è servito dunque distanziare gli attrezzi della palestra o delle sale dedicate ai corsi, investimenti in denaro e tempo che oggi lasciano spazio a questo triste vuoto. Noi abbiamo fatto di tutto fino all'ultimo, venerdì ancora stavamo cercando di adeguarci alle nuove linee guida, normative, date dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Purtroppo questo non è servito. Abbiamo distanziato tutti i macchinari, abbiamo messo il gel, stavamo acquistando i termoscanner per misurare la temperatura all'ingresso del centro sportivo, abbiamo messo le parati nelle dosi. Insomma, tutto questo poi non è servito a niente, nonostante i numerosi controlli effettuati dai NAS nell'ultima settimana a tantissimi centri sportivi su tutto il territorio nazionale. E anche lo spazio delle piscine, oggi a poche ore dall'entrata in vigore del nuovo DPCM, si presenta così. Noi teniamo molto la città di Pavia, pensiamo e crediamo che questa perla impiantistica che è Campus Acque è proprio il campo dell'acqua. Quindi ci sono cinque vasche, c'è tantissimo cloro, un ambiente sicuro, ci sono grandissimi spazi e in linea con il DPCM, le ordinanze della regione Lombardia e tutte le linee guida che abbiamo ricevuto, abbiamo dotato la struttura al nostro meglio, stando molto attenti alle esigenze di tutti quanti, al rispetto, alla sicurezza, ma che poi noi, tutto sommato, siamo solo sportivi. E lo sportivo è abituato a stare ai regolamenti, ogni gara che noi facciamo per essere sport, per essere una competizione, è organizzata con regole eccetera.